Io sono il sindaco di Bortigali, non volevo parlare anche perché credo che chi mi ha presciuto l'abbia detto abbastanza in maniera esaustiva quanto c'era da dire. Ribadisco il concetto che la violenza è va condannata senza se e senza ma. Noi politici, anche se a me fa sorridere la parola politici, io sono un amministratore civico, credo. Comunque abbiamo il diritto, abbiamo il dovere e soprattutto l'attenzione di parlare in modo chiaro e di condannare senza se e senza ma la violenza a qualsiasi livello questa sia. Quindi io mi sento di dire che non ci devono essere nessuna attenuante, non è il clima, non è la crisi, non è nulla, è violenza. E la violenza va combattuta e dobbiamo stare tutti uniti, tutti quanti, perché è vero che oggi soffrono i pastori, ma soffrono gli operatori del settore, ma soffrono gli operai dei casifici, ma soffrono i dirigenti dei casifici, ma soffrono tutti, tutto il comparto. Tutti i padroncini che oggi sono qua, che con sacrificio hanno preso un camion.